Per festeggiare il suo quinto compleanno previsto per venerdì 10 luglio alla Mediateca Montanari di Fano sono in programma numerose attività organizzate da oltre 20 associazioni. Per tutta la giornata l'orario di apertura che di solito prevede la chiusura alle ore 20 per l'occasione si prolungherà fino alle 23. Le iniziative programmate invece andranno dal laboratorio di pop-up a quello sugli orti, dal laboratorio sulla scrittura corsiva a quello sull'homebook. Questa biblioteca fin dai primi giorni, quando sono stata qui all'inaugurazione ho capito subito che era diventata veramente una piazza, una seconda piazza della città, era pieno di gente e credo che in questi anni abbia continuato per cui questo è il primo di tanti altri compleanni che continueranno e ogni anno spero con delle novità. È un programma che è tutto sul filo della partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini, quindi questo sarà il nostro obiettivo per i prossimi anni, coinvolgere ancora di più la città. Saranno 12 in totale gli appuntamenti organizzati alla Memo, si potrà vedere che cos'è il tandem linguistico e come funziona una stampante 3D, si avrà la possibilità di giocare a scacchi o di iniziare ad imparare a farlo, si capirà l'importanza della donazione del sangue e si scoprirà sia la grande organizzazione della protezione civile che la forza del sorriso dei clown dottori della Croce Rossa italiana. La giornata comincerà alle ore 9 con un laboratorio sulle decorazioni dal titolo La Memo in Festa, dedicato ai bambini che vorranno agghindare la biblioteca con bandierine, festoni e ritaglie, si concluderà invece con l'intervento del professor Massimo Bini, geografo letterario, e del compositore chitarrista Alessandro Buccioletti, che dagli ore 21 e 15 presenteranno la mostra 30 manifesti dedicati a Fano, a cura dell'Associazione Culturale Centrale Fotografia. Chi lo desidera potrà fermarsi per cena, prenotandosi al Memo Caffè grazie all'Emporio A.E., che proporrà prodotti biologici a chilometri zero o del commercio equi solidale. Due appuntamenti tra gli altri, mi piace ricordare, alle 4 e mezza la presentazione della nuova associazione Amici delle Biblioteche di Fano, che sarà l'occasione per riunire biografie collettive individuali a sostegno del nostro sistema bibliotecario, e alle 18 la presentazione, insieme all'Assessorato della Cultura, dell'Art Bonus, cioè della possibilità per i cittadini di poter contribuire direttamente a sostenere azioni, opere, interventi che riguardano sia il mondo della cultura, sia quello delle biblioteche. Quindi altri due appuntamenti all'insegna della partecipazione, della condivisione, a sostegno di una realtà, quella della Mediateca Montanari, che grazie all'intuizione, in primo luogo del Presidente Montanari, è da cinque anni un punto vivo per la nostra città e un motivo di orgoglio per una comunità che attraverso la Mediateca si è aperta anche al resto della provincia e del territorio regionale.